Grazie a tutti No, anche dieci Ogni minuto che passa Ci tengo a precisare Non c'è ancora quanta Ma io ho diversi giorni Ne ho ancora 39 Tra l'altro condivido questi 39 Condivido questi 39 L'evento che succede due settimane l'anno Condivido questi 39 Con un'altra Buona idea Bene, brava Ma però sta compagnia Ha pigliato un po' molto Dottor Rossi Dopo che hai finito di navigare Spiegami dove sono le Mauritius Che cosa sono le Mauritius In realtà voglio... Tu mi piace così Sono stato interrotto adesso Acciderio Sono molto felice che siete qua per la scena del compleanno di Eliana Non c'è non c'è un po' molto felice 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 Che cosa sono le mali